Il missionario laico palermitano Biagio Conte sarà a Menfi il 6 maggio prossimo, un momento di incontro e di confronto con colui che da anni si prende cura dei meno fortunati. Biagio Conte sarà presente alla Santa Messa in Chiesa Madre, prevista per le ore 18, con la partecipazione dei fedeli nel rispetto delle norme anti-Covid. Frate il Biagio dialogherà con la comunità di Menfi che gli consegnerà ben 120 enormi sacchi pieni di tappi di plastica raccolti nel corso degli ultimi mesi. E' questa un'iniziativa organizzata in tutta la Sicilia, il devoluto dalla vendita dei tappi grazie ad una ditta specializzata nel riciclo che li paga 6 centesimi al chilo, andrà in beneficenza direttamente alla missione Speranza e Carità, che da anni offre un aiuto concreto a poveri ed emarginati. Biagio Conte ha iniziato la sua emissione da eremita, dopo essersi ritirato nelle montagne dell'entroterra siciliano, si è recato ad Assisi, a piedi e portando con sé una pesante croce di legno. Dal 1993 ad oggi sono quattro le comunità da lui fondate nella città di Palermo e due nelle zone limitrofe, che accolgono più di 200 persone senza tetto, offrendo loro aiuto, coperte, pasti caldi e conforto. La raccolta tappi è dunque una pregevole idea che non costa nulla e dà un aiuto concreto ai bisognosi, finanziando la missione. Inoltre, alla solidarietà si coniuga il rispetto dell'ambiente. È stata creata anche una pagina Facebook raccolta tappi per Fratel Biagio Conte, dove attingere informazioni e interfacciarsi in questa gara di solidarietà. L'iniziativa nel tempo ha coinvolto molti comuni siciliani, parrocchi, oratori, gruppi scout, scuole di ogni ordine e grado, famiglie, associazioni e tante altre realtà. A Menfi il progetto cittadino è stato infatti promosso dal gruppo giovani di azione cattolica San Domenico Savio, con la collaborazione della comunità Masci, Movimento Adulti Scout Cattolici Menfi 2 e il patrocinio del Comune di Menfi. C'è ancora tempo, prima dell'arrivo di Biagio Conte, per contribuire alla raccolta dei tappi di plastica, che in tutti i casi continuerà anche dopo il 6 maggio. I cittadini sono invitati a consegnare quelli in giacenza nelle proprie case entro il prossimo 5 maggio presso i locali dell'Oratorio San Domenico Savio, i mercoledì dalle 16 alle 17, oppure recandosi in qualsiasi chiesa cittadina negli orari delle sante messe. In alternativa, è possibile conferirli all'ex soggere di Contrada Mandrazi, oppure ancora presso le isole ecologiche Portopalo e Fiori. Grazie a tutti.